quando fuori fa freddo casa nostra ci accoglie con tutto il suo calore ma ti capita di sentire temperature differenti nella stanza un'aria secca e polverosa adesso non più ora c'è Auretta riscaldamento innovativo Auretta porta in casa il piacevole tepore del sole mattutino che immediatamente l'ha assorbito dal corpo in modo omogeneo senza riscaldare l'aria che risulta frizzante Auretta trasmette i suoi raggi biogenetici gli stessi usati nella culla dei prematuri ai corpi solidi nell'ambiente che lo rilasciano lentamente diffondendo una temperatura confortevole regalandoti un senso di benessere e di buon umore ma in casa si sa ci sono anche germi e batteri invisibili ad occhio nudo e logan anche i nostri amici possono portarne la bella notizia è che Auretta igienizza l'ambiente è dotata di un sistema naturale di ionizzazione all'argento che svolge un'azione antibatterica e antimicotica mentre riscalda abbatte rapidamente gli ospiti indesiderati le polveri e gli odori Auretta è anche un generatore di ozono che sterilizza l'aria eliminando spore virus germi parassiti batteri fumi e odori senza agenti chimici il risultato aria pulita e leggera come montagna inoltre grazie all'inverter heater technology la modulazione della potenza assicura il massimo risparmio economico il tuo salvadanaio familiare ti ringrazierà a proposito per installare Auretta bastano pochi minuti una normale presa elettrica nessuna canna fumaria nessuna opera muraria zero manutenzione l'accendi e le regole dal telecomando con Auretta hai temperature uniforme niente polveri sospese area sana igienizzata ecologia e risparmio tante funzioni tanti benefici per te e per la tua famiglia andiamo Loga grazie a tutti